si è belli fuori quando si è puliti dentro rocchetta la leggera depura l'organismo perché stimola la diuresi e vi mantiene puliti dentro belli fuori i piatti sporchi lasciano cattivi odori finish citrofresh mette fine agli odori e nella lavastoviglie ad ogni lavaggio torna il profumo finish deo al limone alla mela dal sistema finish per il pulito insuperabile è normale che germi invisibili vengano a contatto con lui e con te nel gestione si possono diffondere ad altri capi al detersivo a volte puoi aggiungere napis and plus il detersivo rimuove lo sporco mentre napis and plus disinfetta i capi è un presidio medico chirurgico leggere quanto riportato sulla confezione il tuo riposo è importante affidalo a eminflex e oggi approfitta degli sconti il singolo costa solo 296 mila lire il matrimoniale solo 592 mila e in più riceverai due cuscini il copri rete il coprimaterasso la rete ortopedica la romantica trapunta in raso e un lenzuolo matrimoniale con le due federe ma chiama subito e oggi riceverai anche dolcissima la trapunta con i volant tutto questo lo potrai pagare con piccole rate da 28.200 lire al mese non lasciarti sfuggire questi sconti eccezionali eminflex 051 8060 vinci sei mesi di pannolini e salviettine con pampers invia un sms con il codice che trovi in tutti i pacchi promozionali saprai subito se hai vinto in caso di contusioni o distorsioni l'applicazione rapida di lasvil da un sollievo pronto lasvil aiuta a ridurre il gonfiore attenua il dolore e favorisce il riassorbimento dell'ematoma lasvil botta e risposta è un medicinale a base di eparinoide leggere attentamente il foglio illustrativo acqua lette ricca di piacere povera di sodio oggi c'è una brillante novità l'isoform casa cedro e bergamotto un nuovo profumo per un pulito sicuro rai 2 presenta dal palacasoria pulore arbitro ineguagliabile dello scontro alessandro greco tutti venerdì alle 21 su rai 2 un saluto cordialissimo da osvaldo bevilacqua che vi ricorda l'appuntamento con sereno variabile questo sabato tantissime le proposte dal mare del nord ai mari e alle montagne italiane navigheremo con voi attraverso i canali di amsterdam per andare insieme a scoprire gli angoli più segreti della venezia del nord sereno variabile sabato rai 2 13 e 30 vi aspettiamo